Se fossero perseguiti correttamente al piano regionale dei rifiuti, renderebbero meno problematiche anche le discussioni che riguardano tutti i giorni, così come le audizioni dei soggetti nei limiti dei poteri che sono conferiti alla Regione, sapendo che la Regione rocca un'operazione e di verifica del piano regionale, essendo il capo delle amministrazioni comunali la responsabilità della costituzione degli ambiti, dell'individuazione dei gestori, della gestione dell'impiantistica dell'individuazione dei soci privati che sono interni alle società, sono verità che su questi punti possiamo ascoltare sindaci e amministratori locali nelle commissioni. Pertanto la giunta regionale, condividendo l'idea di una commissione dedicata, ritiene tuttavia che gli uffici ci fermiscano i limiti e le competenze dei contenuti che possono essere assegnati alla Commissione. E in modo particolare la giunta si dissociano dall'inserirsi in procedimenti che lo Stato affida alla magistratura e alle Preventure nell'ambito della normativa antimafia. Pertanto, per quanto riguarda i componenti della giunta regionale, non partecipano a votazioni che contengono i muti 1, 2, 3 e 4 in cui lascia la responsabilità eventuale a gasto del Consiglio regionale.